Siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi, siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi. Fratelli Nerazzurri, amici di Facebook e Instagram, buonasera a tutti ragazzi, buona domenica 12 maggio, tra l'altro, insomma ho finito il primo tempo, ma io avevo dato un'occhiata, mi sembra che la Juve perdeva addirittura in gas con la Salernitana, però poi sicuramente la ribalterà, però l'intervallo è 0-1, l'intervallo è 0-1, siamo tornati a casa non da molto, cioè tutto il pomeriggio in ballo con Stefano, col calcio ragazzi, madonna un caldo allucinante oggi, veramente i ragazzi hanno dato tutto in campo, ma i primi caldi quelli tosti, poi la partita minchia alle 2 e mezza, vabbè comunque, insomma quindi torni a casa, vedi un po' risultati, anche ieri sono stato preso tutto il giorno, anzi vi ho postato le live reaction, ragazzi andatele a vedere perché pensavo di postarvele addirittura oggi, invece ho trovato un paio d'ore che ero a casa e le ho montate al volo, quindi sono carine, insomma è sempre un 5-0, poi chiamavo i gol, chiamavo i gol perché mi servivano poi al fantacalcio anche perché sono in ballo per una Supercoppa, quindi è anche divertente. E oggi, come al solito il giorno dopo, parliamo un attimino della partita, quella che è stata, delle varie polemiche, perché poi le polemiche ci sono a prescindere, e poi mi invito a rimanere belli lì, belli lì incollati perché è una sorpresina per voi, insomma, ieri un po' si era capito, ieri sera tardi ho postato delle foto sulla community, insomma il mio bandierone, vedete che non c'è dietro, vedete che è disappeso, vedete dov'è? Ha fatto un viaggetto ieri il mio bandierone, quindi rimanete incollati perché alla fine è una piccola sorpresa per voi, anche con delle canzoni che ci acchiappano, che ci piacciono. Detto questo ragazzi, allora, Frosinone Inter 0-5 polemica, cioè a me la cosa veramente che mi fa tanto, sono due, sono due cose che mi fanno tanto ridere di tutta sta menata qui, delle polemiche post Sassuolo Inter, ma porca mignotta, ma in 11 anni, e lo ripeto, a me è quello che mi fa incazzare, in 11 anni abbiamo perso 10 volte col Sassuolo, perché per 9 volte è andato sempre bene, ci avete preso per il culo, vi siete divertiti tanto, e alla decima, dopo 10 giorni di baldoria, post Scudetto, dovete rompere il cazzo? E già questa cosa mi fa abbastanza ridere, perché andavano bene le altre 9 volte in 11 anni? Abbiamo perso 10 volte col Sassuolo, è veramente la nostra bestia nera, è quello che fa girare il cazzo a un interista, perdere punti proprio contro questi, quindi questa è una cosa, no? E poi, voglio dire, parlo ovviamente agli ossessionati zozzoneri e gobbi, no? Voglio dire, avete sperato per un anno che l'Inter perdesse? Ci avete provato in tutti i modi, avete fatto tabelle su tabelle, rimonte su rimonte, prima uno e poi l'altro, e poi avete fatto il tifo l'uno per l'altro, sperando in una sconfitta dell'Inter, quelle poche volte che eravate lì a gioire, a sperare, e adesso dovete rompere il cazzo. Poi torniamo a vincere, perché giustamente, io l'ho detto ragazzi, mi gira il cazzo, lo ripeto, è solo esclusivamente per questo, non credete a quelle voce, la combini le cose, proprio col Sassuolo, no? Perché poi se guardi la partita, non è andata così, purtroppo i limiti erano quelli, più di quello, dai, non è stata una bella partita, capisco i festeggiamenti e tutto, io dico cazzo, proprio contro quelli, e ho detto, settimana prossima, che non ci saranno stati i bagordi, un po' più sul pezzo, un po' più riposati e allenati, è capace che gliene dai 4 al Frosinone, e gliene date 5, ma non va bene neanche questo. Cioè, da quando l'Inter è tornata a vincere, perché non dico solo quest'anno, perché anche le collano, se le vinciamo noi sono coppette, se le vincono gli altri si diventano coppe della madonna, c'è sempre qualcosa che non va. Quindi, come la fai, la fai, la sbagli. Come la fai, la fai, la sbagli. È un po' come con le donne, dai ragazzi, parliamoci chiaro. Con le donne è così, cioè come la fai, la fai, la sbagli. Oppure, quando le donne, che hanno già, loro hanno già in mente la risposta alle malefiche, no? E ti fanno la domanda, ti fanno, ma secondo te è meglio questo o questo? Cazzo, tu ci pensi pure, dici, ti fai anche i tuoi ragionamenti, no? Mentali, poi dici, guarda, secondo me è meglio quello, ma io preferivo quello, allora vaffangolo, hai già scelto. Perché è così? Come la fai, la fai? E l'Inter, qualsiasi cosa fa, non va bene. Non va bene, ragazzi, perché sono polemiche su polemiche su polemiche. Quindi, la vivo ormai col sorriso, poi, da doppio stellato, questa maglia ormai è anziana, è anziana, addirittura, però io sono affezionato. Questa mi fa impazzire a me, ragazzi, lo sapete, perché mi richiama quella del 97-98, della Coppa UEFA, quindi. Diciamo che la viviamo col sorriso, però siamo circondati da ossessionati, che tendono sempre a buttare merda sulla nostra amata Inter. Parlando invece, un po' al volo di Frosinone Inter, allora, andando un po' nei singoli, su, supersonico, grandissimo Jan Sommer, Jan Sommer, Sommer spettacolare, enesimo clean sheet, ma è per merito assolutamente suo, perché 2-3 miracoli di fa, poi due tiri erano bastante centrali, per il resto, la solita sicurezza, cioè, a parte una volta che, però lì, tutta la difesa ha sbandato, quindi anche lui è rimasto un po' così, però poi, è riuscito a recuperare, quindi Sommer, fantastico, non ho più oggettivi, enesimo clean sheet. Difesa spettacolare, perché Bissek non si è proposto tanto come fa solitamente, però a livello difensivo sta migliorando partita dopo partita, cioè, fa valere il fisico, c'è il piede, c'è la testa, esce a testa alta, guarda i compagni, quindi, tanta roba, tanta roba, Provolone mi piace tanto, e poi quando spinge mi fa impazzire proprio, poi, vabbè, ha preso una traversa, che non è la prima volta, ha fatto anche due gol, di testa, quindi, tanta roba, tanta roba. Carlos Augusto, non ho più aggettivi per Carlos, dove lo metti, lo metti, fa il suo, ha salvato anche un gol sulla linea, si è trovato proprio nel punto giusto. Stefan De Vrij, veramente, cioè, era ovunque, ogni palla recuperata di quelle pesanti era sempre Stefan De Vrij, quindi, difesa veramente sontuosa, perché? Perché abbiamo trovato un Frosinone che ci ha messo in crisi, che ha tirato in porta, che ha creato, eh, più di squadre ben più blasonate, no? L'abbiamo visto, ci sta. Quindi questo per quanto riguarda proprio il reparto difensivo. Andiamo sugli esterni, andiamo. C'era il rientro di Dimash, non mi è dispiaciuto, non il solito Dimash, insomma, poi lui si è sfracanato un po' più di tutti, bellissimo il video che è girato, insomma, lui dalla curva, da ragazzino, beh, bello, molto bello. Dall'altra parte, dall'altra parte, Matteone Forforone, Matteone Forforone, non ho mai parlato, cioè, non ho mai parlato di questa cosa qui, di Matteo, è il mio idolo, è il nostro idolo, lo sapete, non c'è Lautaro che tenga, non c'è, per noi, per noi, per me mio figlio è Matteo D'Armiano. La cosa più bella, però adesso, correggetemi voi perché è di un po' di giorni fa, il complimento che gli ha dedicato il capitano, Zanetti, cos'è che ha scritto in una storia, cos'è che ha fatto che c'era D'Armiano, c'era una foto, lui ha scritto, cos'è che ha scritto, ricordatemelo voi, insomma, ha fatto un complimento stupendo, poi fatto da Zanetti è qualcosa veramente di bello, 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 e Matteone questa cosa qui ce l'ha, quindi, Matteone cosa gli vuoi dire. Centrocampo, centrocampo, finalmente, Davidino Frattesi, dal primo minuto, ha fatto Davidino Frattesi, quello che vediamo solitamente per mezz'ora, quindi grande veramente partita di Davidino, con gole assist, grandissima partita di Nicolo Barello, perché poi si avrà sbagliato anche un paio di cose, per l'amor di Dio, era ovunque Nicolò, cioè Nicolò veramente il motorino del centrocampo, spettacolare. Cristian Aslani, Cristian Aslani ha alternato delle cose, ad esempio, nello schifo di Sassuolo, tre giocate belle, cazzo me le ha fatte vedere veramente lui, ma tre proprio genialate. L'altro ieri, l'altro ieri meno, Cristian, meno e mi aspetto di più, mi aspetto di più quelle giocate, perché ce le ha, quindi meno passaggini, poi lui si fa trovare, ci mancherebbe, però, secondo me, rispetto lui, parlo di lui, mi era piaciuto, l'avevo preferito. Poi i calci d'angolo, però, strepitosi, perché tira, e uno è il colpo di testa di Bissek, la traversa, calci d'angolo, strepitosi, perché così si devono battere, senza il giochino. Aslani, Aslani, con due ne ha battuti uno più bello dell'altro, ma molto meglio, cioè, c'è la Noglu ultimamente con i calci d'angolo, primi anni, strepitoso, poi è andato un po' calando sta cosa, lo stesso Dimash, Aslani si sa tirare veramente bene. La coppia d'attacco, la coppia d'attacco, beh, Tikus Turam, ogni pallone che ha toccato, veramente ha messo in crisi tutti, è ritornato il Tikus, assist, gol spettacolare, con quella fuga, falli procurati, gioca con i compagni, gioca con tutti, sempre col sorriso, quindi io non ho più aggettivi per questo ragazzo, vediamo come chiude il campionato, mancano ancora due partite, sono curioso, e poi rimettiamo lì tutti i numeri perché parlano i numeri per lui e parla soprattutto lo spogliatoio come è unito e lui come si è inserito bene. Karnautovic, Karnautovic ha alternato un po' delle cazzatine, però cose decenti, l'ho visto combattere, al di là del gol, sì, poi ho provato l'ara buona, per l'amor di Dio, però, insomma, rispetto al nulla, dove mi ha fatto incazzare quando entra col sassuolo, che quando entra così e poi scivola la prima, e non tocca mezza palla, quantomeno, qualcosina l'ha fatta, poi è entrato anche Lauti e si è risbloccato anche lui, Juan Quadrado, quando è entrato, minchia, Juan Quadrado, quando è entrato i primi, ma il primo quarto d'ora ha sbagliato l'impossibile, ha sbagliato delle palle velenose, ma delle cose che dopo un po' si è iniziato un attimino, però, mamma mia, poi sì, arriva il cross, arriva il gol di Lauti, però, cazzo, questo è voglia di allenarsi per trovare un minimo di condizione, perché è entrato veramente, è stato imbarazzante, perdere quei due palloni, uno scivolando da solo, che quelli partono in contropiede, è stato allucinante, quindi, boh, valuteranno loro, vedranno loro, insomma, Buchanan, dall'altra parte, è spettacolare, ha fatto un gol eccezionale, portava palla, avanzava, testa alta, guardava, vado di qua, vado di là, vado di qua, tac, rientra e la mette a giro, ragazzi, un gol della Madonna fa, quindi, l'avevamo già detto, non servo io, è lì da vedere, anche i dieci minuti, ma cazzo, ma questo, anche col sassuolo, è entrato, ha bruciato l'erba, l'unico, l'unico, dicevo io, cazzo, che è entrato, che... e farlo giocare un po' di più, e infatti, è arrivato anche il gol di Buchanan, quindi, sono contento, perché mi aspetto questo, da chi ha giocato meno, ma lo stesso Sensi e Classen, hanno partecipato? Allora, Sensi ha partecipato all'azione del gol di Buchanan, perché è subito lui che si gira, sa che c'è il compagno, e gliela dà, e parte. E se non ricordo male, nell'azione del gol del Toro, c'è Classen, che recupera una palla, la dà subito, da lì viene poi il gol del Toro, se non ricordo male. Era quello, o era quello del Tikus? Non mi ricordo, comunque, mi ricordo che l'ho detto anche nel live reaction, insomma, Frattesi era già uscito, quindi era lui, che hanno il giallo Frattesi e il giallo Classen, si sono fatti tutti e due, non si capisce un Gets con quei capelli. Uno, almeno, prima non ce li aveva, adesso ce li ha. Quindi, questo è, bravo Mr. Inzaghi, che ha fatto giocare giustamente chi gioca meno, e si devono mettere in mostra per capire poi cosa succederà anche l'anno prossimo. Basta, ragazzi, questo era il video, quindi, un attimino sui singoli, veramente strepitoso Jan Sommer. Adesso si parla di Bento, di Portieri, si parla, dell'amor di Dio. Però, un altro annetto, io lo farei con Jan Sommer, come si deve, perché... Tantissima roba, tantissima, tantissima. Nelle uscite è rimasto così, non è che è migliorato, eh. Cioè, lui tende a non uscire, però ha una difesa, ha un reparto difensivo che veramente gli ha parato il culo più di una volta. E dove non arriva la difesa, arriva lui. Quindi, anche se non esce, e io preferisco i portieri che escono un po' di più, ma c'è da dire che... Chi metti metti in quella difesa, dal Brisco, la Pavard, ragazzi. Ecco, manca il gol di Benji Pavard. E non ce l'ho affanto a calcio, ma lo spero per lui, se lo merita, magari una semi rovesciata, tipo figurine panini, tipo Yuri Giorcaev, insomma. Mi sta andando giù la voce, perché? Perché mi sono scatenato già a campo a vedere i ragazzi, a vedere. Basta, ragazzi. Condivisione del video, iscrivetevi al canale, sempre Forza Inter, attivate la campanella in tuo culo agli ossessionati, che sono lì che rosicano, non va bene mai bene un cazzo. Di proprietà, ragazzi, ho visto tutto quello che è uscito, ne parleremo poi in settimana, se ci saranno delle ufficialità. E allora, volevo parlare della partita, un po' dei singoli, ma godetevi questo piccolo mini video, insomma, guardate dove... Dove vi riporta il DEC con Stefanino. Mi raccomando, fate passaparola, che manca poco ai 10K. Ciao! E andiamo allo stadio, andiamo! Si va allo stadio, si va a San Siro, 11 maggio, si va a San Siro, chissà perché, ma lo scopriremo. Occio, eh! Occio! 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 No, 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 no Cantiamo insieme con felicità E tra di noi profumo di vittoria c'è già E presto tornerà la gloria che il mondo ancora ci invidierà Cantiamo l'inno all'intervincente Inter, la stella splendente Inter, quest'inno d'amore canta insieme a noi E il successo non potrà sfuggire Senti, nell'aria c'è il profumo di vittoria Il cuore nero azzurro sogna gloria E vuol cantare la sua fedeltà Alla sua storia ora Di nero azzurro il cielo si colora La stella d'oro brinda e la vittoria I tuoi campioni sempre premierà E l'Inter vincerà